buongiorno a tutti oggi mi trovo ovviamente nel Po è l'11 novembre 2017 e sono su questo ex salice ex perché purtroppo è passato a miglior vita peccato perché era abbastanza vecchiotto fino a un'ora fa un'ora e mezza fa anche c'era un grandissimo sole si stava bene in maglietta e c'era caldissimo poi a un certo punto puf silent hill purtroppo adesso c'è frescotto ma fondamentalmente non ho fatto questo video né per il salice né per silent hill ma per rispondere a tutti quelli che mi chiedono eh ma non hai freddo alle caviglie con i risvoltini la risposta è no non ho mai freddo alle caviglie come potete vedere anche adesso sono senza calze non ho i risvoltini però come si dice qua da noi le braghe fatte su per andare a vongole in realtà le vongole le abbiamo anche qui come avete visto nei video precedenti oggi non penso ce ne siano però forse cercando potrei trovarne un pochino per fare una spaghettata e comunque stavo dicendo che non ho mai freddo i piedi tantomeno le caviglie e tantomeno le gambe quindi di fatto è inutile che me lo chiedete detto questo ora sono più tranquillo che altro dire qui la nebbia se ne sta anche andando forse però il freddo rimane va bene ragazzi adesso vado a casa a mangiare ci vediamo alla prossima fatti bravi mi raccomando iscrivetevi al canale e un saluto